Buongiorno e benvenuti alla rassegna sportiva, diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, cosa si dice della nostra Udinese, ovviamente anche all'interno con gli articoli di approfondimento sullo sport, sia locale che nazionale. Andiamo subito sul messaggero Veneto per parlare della partita di domenica tra Udinese e Juventus e dunque ci portiamo immediatamente sulle pagine di sport, c'è intanto il richiamo in alto sopra la testata in cui il messaggero scrive Udinese Juve del Neri recupera Berami, andiamo ad approfondire all'interno questa notizia, come avete visto ieri dal nostro pomeriggio calcio in diretta per mostrarvi le immagini della partitella tra la prima squadra e la primavera, Berami ieri è stato impiegato, dunque per lui si profila un possibile utilizzo anche contro la Juventus, Berami che ha dovuto saltare la partita di Firenze per l'infortunio che gli era capitato nella gara precedente, un Berami che dunque ha recuperato in tempo abbastanza breve rispetto a quello che si poteva ipotizzare e sarà a disposizione del mister. Berami c'è, l'Udinese si carica, questo è il titolo di apertura della prima pagina delle pagine sportive del messaggero, lo svizzero impiegato nel galoppo con la primavera, con la Juventus sarà a disposizione di spalla, qui vediamo chi dirigerà l'incontro, sarà Doveri, Pozzo nel 2012 disse è uno pericoloso. Qui andiamo a leggere invece il quadro completo delle partite della giornata di Serie A che inizierà come sempre il sabato, alle 18 ci sarà l'anticipo tra Sampdoria e Crotone mentre in serata il big match tra Napoli ed Inter alle 20 e 45 sono le prime due in classifica divisera, due punti, il Napoli è in testa a punteggio pieno, l'Inter due punti dietro. Per quanto riguarda il programma di domenica il lancio match sarà il derby di Verona tra Chievo, Verona e Elas Verona, alle 15 giocheranno Atalanta-Bologna, Benevento-Fiorentina, Milan-Genoa, Spal-Sassuolo, Torino-Roma e ci sarà alle 18 invece il posticipo, il primo dei due posticipi tra Udinese e Juventus e dunque alle 20 e 45 si chiuderà la giornata con Lazio-Cagliere ecco la classifica, come vi dicevo Napoli e Inter divise da soli due punti, si affrontano domani sera, una sfida che vale il primato, l'Udinese invece dall'altra parte a destra, una classifica molto corta perché al di là del Benevento che è ancora a zero punti, le altre sono tutte vicine, dai cinque di Genoa, Spal-Sassuolo, ai sei di Verona, Cagliari, Crotone, Udinese, poi appena tre punti più sull'Atalanta, quattro la Fiorentina, dunque una classifica che può essere ancora rimediata in tempi relativamente brevi per quanto riguarda i bianconeri, bisogna dare continuità a risultati positivi, quella continuità che finora è purtroppo mancata. Vediamo anche alcuni passaggi sempre sulla situazione tecnico-tattica per Del Neri in vista della gara di domenica, qui c'è anche una foto di Maxi Lopez, ma intanto andiamo con ordine, vediamo prima qui a sinistra cosa scrive il messaggero, ancora problemi sulla destra con Larsen che lavora soltanto in palestra, Widmer ha svolto un lavoro differenziato, le quotazioni di Adnan crescono per un possibile impiego dal primo minuto sulla destra, non ha fatto male contro la Fiorentina, Adnan nel secondo tempo quando Del Neri lo ha impiegato appunto sulla fascia destra, per lui potrebbe essere riproposto questo tipo di posizione in campo. Doppietta di Maxi nel 6-1 finale contro la primavera del test al Bruseschi che ha visto a segno anche Baic, De Paul sul rigore, Pezzella e Lasagna che ha aperto le marcature, dunque segnali confortanti ieri, segnali che vanno però tradotti in concreto nella partita di domenica. Facciamo vedere chi sono i veri bianconeri, l'appello del presidente dell'AUC che chiede collaborazione alla Curva Nord per una coreografia che intanto possa iniziare a caricare i nostri e mettere un tantino in soggezione la Juventus, anche se è chiaro che si ha a che fare con una squadra che è abituata a questo tipo di situazioni, però il pubblico cercherà in tutti i modi di spingere la squadra ad una prestazione super, perché serve una prestazione super per fare risultato contro la Juve. Intervista all'interno a Pepe, un doppio ex, non credete a una Juve in crisi, intanto su vediamo una foto simbolo di quella che può essere la crisi della Juventus con Higuain e Di Bala in una posa non proprio di felicità, la Juventus non ha ottenuto ottimi risultati nell'ultima partita, pareggiata a Bergamo contro l'Atalanta dopo essere stata in vantaggio sul campo appunto dei neroazzurri, poi ha perso con la Lazio in casa sbagliando un rigore a tempo scaduto con Di Bala che ne aveva sbagliato uno anche a Bergamo. Il rapporto con Del Neri, parla Pepe, gran persona, Torino al problema, fummo, noi giocatori, l'esperienza di Del Neri non fu felicissima alla Juventus, nella stagione 2010-2011 e Pepe la ricorda così. Poi parla di Higuain e Di Bala mettere in discussione quei due non si può proprio, in effetti insomma per quello che comunque hanno fatto pur in un inizio di stagione, questa volta non è eccezionale per Higuain, per Di Bala sicuramente eccezionale perché già in doppia cifra per quanto riguarda i gol segnati ha sbagliato due calci di rigore, dunque non si può certo pensare che i problemi della Juve partano da Higuain e da Di Bala. Andiamo qui a vedere cosa è successo in Europa League, i risultati delle tre squadre italiane, è andata bene perché il come vedete la Lazio ha vinto contro il Nizza 3 a 1, iniziale gol di Balotelli, poi il il sorpasso con le reti di Milinkovic, Savic che ne ha fatti due al ventesimo e al quarantaquattresimo e l'altro gol di Caicedo al quinto minuto che è valso il pareggio subito dopo il gol di Balotelli, al quarto Balotelli un minuto dopo Caicedo che è l'attaccante di di scorta di Simone Inzaghi per far riposare Immobile che infatti è entrato soltanto al quindicesimo della ripresa. 0-0 tra i fischi, noi abbiamo detto che è andata bene perché sono tutti risultati positivi, non nessuna delle tre italiane ha perso però è chiaro che il Milan aveva bisogno di vincere soprattutto per il morale, è finita 0-0 contro la EK di Atene ed è finita tra i fischi e con un Montilla sempre più in difficoltà, è stato annullato un gol a Cutrone ma era in fuorigioco quindi giusto annullare la rete al milanista. Atalanta batte Apollon 3 a 1 e questa invece è una partita che ha visto l'Atalanta conquistare un successo importante con le detti di Ilicic, Schembri, Petagna e Freuler quindi un Atalanta che è prima passata nel vantaggio si è fatta raggiungere dunque nel secondo tempo in due minuti 19 e 21 ha piazzato il colpo del 3 a 1 molto importante perché avvicina il club della squadra di Gaspedini alla qualificazione al turno successivo mentre per quanto riguarda il Milan nella situazione complicata Atalanta e Lazio vedono la qualificazione dobbiamo anche dire che sono stati sono state brave queste squadre ad avvicinarsi alla qualificazione senza grossi intoppi anche se come avete visto per l'Atalanta in campionato forse una ripercussione dagli impegni di Coppa si è avuta perché l'Atalanta è ferma a quota 9 appena ed è ancora nella parte destra della classifica nonostante comunque nello stesso campionato abbia offerto delle buone prestazioni qui vediamo una notizia che riguarda invece un possibile una possibile operazione di mercato per quanto riguarda il mese di gennaio Milik che è stato operato per il nuovo infortunio che gli è capitato questa volta all'altro ginocchio al ginocchio destro dopo essere stato operato al sinistro per la rottura del legamento crociato e potrebbe rientrare a disposizione di Sarri entro la fine dell'anno ma l'idea sarebbe quello di sarebbe quella di prestarlo e tra le squadre pronte ad accoglierlo ci sarebbe secondo radiomercato anche l'udinese oltre al Chievo Verona per dare la possibilità a questo ragazzo di giocare con continuità a recuperare e mettersi al pari degli altri poi chissà staremo a vedere cosa succederà nel mese di gennaio quando si riapriranno le contrattazioni siamo pronti adesso per andare a verificare la situazione del traffico e darvi notizie anche di servizio in tal senso con il vice ispettore Sandro Favotto collegato con noi dalla centrale operativa della polizia locale buongiorno buongiorno a voi in questo inizio di mattinata di venerdì il traffico si presenta scorrevole sull'intera rete viaria cittadina non si registrano al momento particolari situazioni di disagio riguardo alla circolazione dei veicoli possibili disagi potremmo averli durante l'arco della giornata sul viale della vittoria per lavori segnaliamo altresì lavori sulla via Micesio questo però domenica 22 con restringimento della careggiata e segnaliamo che domani inizierà l'allestimento delle strutture per il tradizionale Luna Park in piazza a primo maggio null'altro da segnalare grazie al vice ispettore Sandro Favotto per le preziose informazioni al di là del traffico come diciamo sempre ci sono alcune notizie di servizio che è importante conoscere prima di mettersi alla guida per raggiungere l'ufficio o portare i bambini a scuola o comunque per muoversi in auto nella nostra città ed intorno adesso torniamo su Udinese Juventus perché abbiamo letto dell'intervista di Pepe leggiamo anche le dichiarazioni di Allegri che avverte l'Udinese con una minaccia e dice ora noi vinciamo 5 di fila il tecnico della Juve guarda le avversarie prima della prossima sosta problemi intanto ad una caviglia per me di Benassia che rischia di saltare la sfida da ex allo stadio Friuli andiamo sopra a vedere invece una polemica scatenata da Bruno Fernandes dopo la partita di Champions League a Torino che il suo Sporting di Lisbona ha perso 2-1 con un gol di Mandzukic segnato proprio all'ultimo respiro del match quasi nel finale ma c'è stato un fallo sul gol di Mandzukic dice Bruno Fernandes abbiamo avuto sfortuna sul gol di Mandzukic c'è stato un blocco falloso su di me che l'arbitro non ha visto che ha permesso ad Aglas Costa di crossare l'ultima spruzzata di veleno sulla Juventus arriva dallo spogliatore di questa gara le dichiarazioni sono dell'ex udinese Bruno Fernandes virgolettato riferito poi dal quotidiano portoghese Abola interessato al match di ritorno al prossimo round tra due settimane che dice giocheremo faccia a faccia con qualsiasi avversario non abbiamo problemi di fronte a nessuna squadra perché siamo anche noi una grande squadra questa la chiosa di Bruno Fernandes giocatore che ha fatto molto bene ricordiamola anche qui all'Udinese prima di essere ceduto alla Sampdoria dove ha confermato le sue qualità e meritarsi poi il passaggio allo sport in Lisbona e il ritorno in patria con possibilità di giocare anche in Champions League cambiamo giornale e andiamo a vedere il Gazzettino che apre nella pagina di Sport con la notizia di Berami che vuol prendersi la sfida con la Juventus e quindi non vuol perderla questa partita stessa apertura del messaggero e cioè il possibile recupero di Valon Berami lo Svizzero ieri in campo nel test con la primavera è sicuramente un sollievo per Del Nedi che l'ha rimpianto nella partita di Firenze il centrocampista in allenamento ha agito da mediano pronto a dare manforte alla difesa notizie di natura statistica troviamo qui a destra le zebrette vincenti in casa sulle zebre soltanto cinque volte speriamo di poter arrivare anche alla sesta e poi come abbiamo detto leggendo anche prima il messaggero ma vi abbiamo già commentato quello che stiamo leggendo oggi sui giornali ieri nel nostro pomeriggio calcio che ha seguito il match amichevole tra la prima squadra e la primavera Adnan è favorito per la maglia da titolare sulla destra al momento che ieri Widmer ha lavorato a parte e ovviamente Larsen non sarà ancora recuperabile quindi qualche problema sulla fascia destra che il tecnico potrebbe risolvere con l'utilizzo di Adnan sulla fascia destra troppi impegni di Champions Allegri studia il turnover qui vediamo Licksteiner inserito nella lista UEFA non inserito nella lista UEFA quindi domenica potrebbe giocare al posto di Sturaro per quanto riguarda il resto si prevede un turno di riposo a Buffon con Scesni che potrebbe giocare dal primo minuto cosa che è già avvenuta in questo campionato altre volte mentre in difesa potrebbe esserci una rivisitazione di quello che è il blocco base con delle possibili variazioni di uomini da parte di Max Allegri e dunque possiamo a questo punto passare anche al Pordenone che ha avuto un intermezzo di Coppa Italia in settimana ieri abbiamo trasmesso la partita sia alle 17 che alle 23 contro il Vicenza un Pordenone che ha perso 2-1 la Coppa Italia di C ed è atteso adesso per quanto riguarda la Coppa Italia dalla sfida contro il Cagliari nella Team Cup la Coppa Italia cosiddetta dei grandi ma soprattutto il Pordenone è concentrato sul campionato affronterà il Mestre un'altra formazione veneta al Bottecchia Pordenone che riduce da tre pareggi consecutivi ha necessità di tornare a vincere la formazione di Colucci per consolidare la sua leadership in classifica e confermarsi squadra sicuramente attrezzata e in grado di ottenere la promozione in Serie B qui vediamo una immagine della partita tra Pordenone e Ravenna l'ultima che ha visto il Pordenone vincere il match per i Nero Verdi sarà un turno da sfruttare oggi scontro diretto Padova-Bassano mentre la San Benedettese sarà di riposo ricordiamo che il girone del Pordenone ha una squadra in più domenica sera i Nero Verdi potrebbero ritrovarsi di nuovo primi in solitario dunque assolutamente un turno da sfruttare e poi andiamo a leggere dei giocatori giovani che arrivano ad Armanforte al gruppo di Colucci che li impiega negli allenamenti quotidiani e se possibile dà anche spazio come è successo per esempio a Luca Toffolini classe 99 un ragazzo dotato di grande fisicità leggiamo qui grande generosità ha partecipato alla seconda fase del ritiro ed ha anche esordito in Coppa Italia non sono rincalzi scrive il Gazzettino e lo hanno fatto vedere contro il Vicenza alcuni erano titolari altri sono entrati a partita in corso oltre a Luca Toffolini citiamo anche Eric Battilana un centrocampista classe 2000 cresciuto proprio nel Pordenone Nicolò Nardini classe 2001 finito già nel mirino della Fiorentina è titolare dell'Under 17 di Serie C e per quanto riguarda gli altri ancora Alessandro Peressutti difensore classe 2000 vediamo qui anche in foto proprio Peressutti e Massimo Facchinutti classe 2000 terzino con buona corsa e un buon sinistro ed infine ce ne sono anche altri come Mattia Pramparo classe 2000 difensore gli attaccanti Tommaso Del Fabbro e Luca Beltrame anche loro classe 2000 e poi nel giro della prima squadra c'è anche il portiere Under 17 Marco Meneghetti 2001 anche lui nel giro della rappresentativa Under 17 di Serie C dunque sicuramente una serie di ragazzi che possono rappresentare il futuro del Pordenone il sacilese Zironelli prepara lo sgambetto a Colucci Zironelli che ha giocato con il Vicenza ha legato la sua carriera la parte migliore della sua carriera con il Vicenza adesso allena ed è l'allenatore del Mestre dalla nostra parte dice avremo la spinta di 200 tifosissimi qui il tecnico del Mestre elogia i neroverdi ancora imbattuti ma appunto a far bene anche al Bottecchia che finora è inviolato e dunque questa è la situazione del Pordenone fotografata dal Gazzettino ma abbiamo la possibilità di leggere anche la pagina dedicata ai ramarri da parte del Messaggero Veneto nell'edizione proprio di Pordenone parla Pavanel doppio ex partita divertente e da tripla l'attuale allenatore dell'Arezzo fa i complimenti a Colucci ma mette in guardia dalla squadra di Zironelli e il Messaggero ricorda anche che è stato il primo allenatore dell'era Lovisa allenatore classe 67 Massimo Pavanel nativo di Portogruaro residente a Trieste allena in serie Cilarezzo per lui si tratta di una prima esperienza tra i professionisti dopo aver guidato per appena un mese la Triestina tra lui agosto 2011 aver battuto anche Zdenek Zeman 5 anni per lui all'Elas Verona tra Lieve e Primavera e poi è arrivata questa chance è arrivata questa chance con l'Arezzo di allenare in serie C leggiamo della situazione in casa Ramarri per quanto riguarda disponibili e indisponibili in questo caso perché parliamo di Agostino e Berrettoni che sono in dubbio di Agostino ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra Berrettoni che ricordiamo è rientrato ma dopo un lungo periodo di inattività e fisiologico che possa accusare qualche problemino poi si sistemerà tutto e rimangono in dubbio comunque per la sfida di domani di domenica chiedo scusa contro il mestre e poi c'è una notizia curiosa che ci fa un po' riflettere anche sui social perché chi di voi è incappato in una problematica con Facebook sa quanto sia difficile far rimuovere un commento far rimuovere una pagina che offende che magari offende anche direttamente noi che frequentiamo Facebook e invece poi succede che per un account regolare dei commenti regolari Facebook cancelli gli utenti blocchi e quindi faccia censura perché perché evidentemente si affida a un sistema automatico che va a riconoscere delle parole e in questo caso c'è un giocatore che come sapete si chiama Finocchio gioca nel Renate è un ex giocatore del Pordenone Facebook sospende una serie di account in cui si nominava il giocatore Finocchio è chiaro che c'è un grosso equivoco perché si nominava questo giocatore semplicemente perché si faceva una discussione sul calcio e su questo e su questo ragazzo e viene citato anche un caso in cui in campo non c'entrano nulla i social network ma è successo qualche anno fa durante un incontro di campionato di primavera fra Bologna e Parma l'allenatore del Bologna dove giocava Finocchio fu squalificato e poi graziato una volta scoperto il malinteso per aver urlato Finocchio mettila fuori per favorire i soccorsi in campo a un giocatore che era a terra l'errore fu ovviamente scovato e l'allenatore graziato comunque una notizia curiosa che però ci deve far in qualche modo riflettere sulle enormi contraddizioni dei social in particolare di Facebook che ci mette anni se si riesce a ottenere la cancellazione di un utente che ci molesta di una pagina che riteniamo offensiva possiamo segnalare quanto vogliamo ma non sempre Facebook riesce riesce o vuole rimuovere un determinato tipo di cose e poi invece qui per una situazione del tutto regolare normale non offensiva è arrivata la rimozione degli account il blocco degli account e poi una volta bloccati ci vuole ancora tantissimo tempo per essere riattivati bene siamo alle 7.56 abbiamo letto tutto per quanto riguarda l'Udinese ed il Pordenone e tra un po' vi presenteremo anche l'argomento di oggi di approfondimento siamo come sempre in esterna per parlare nell'ora successiva della nostra rassegna stampa di un argomento di attualità un approfondimento che ci permette molto spesso anche di conoscere il nostro territorio e quest'oggi siamo in esterna con Valentina Bearzi andiamo a sentire da Valentina dove si trova e di che cosa parleremo oggi a partire dalle 8 in poi Valentina buongiorno no è saltato il eccola qui Valentina però non abbiamo no non abbiamo l'audio e dunque ecco mi dicono di sì adesso Francesco siamo a Dardago dammi solo un cenno che riesce a sentirci correttamente ci siamo ci siamo dunque allora siamo a Dardago siamo vicini ad Aviano abbiamo appena oltrepassato il centro di Aviano e siamo arrivati fino a qua per spiegarvi che cosa succederà questa domenica il 22 di ottobre c'è una manifestazione dedicata allo zafferano forse non molti sanno che proprio in queste zone si coltiva lo zafferano questa importante spezia grazie all'intuizione di alcuni imprenditori che hanno appunto incentivato questa coltivazione qualche anno fa e adesso è diventata una vera e propria coltivazione intensiva tanto che viene organizzata anche questa festa vi racconteremo quindi che cosa succede domenica ma andremo anche a vedere come vengono raccolti i fiori dello zafferano perché da metà ottobre circa fino a tutto novembre c'è proprio la raccolta e poi l'essicazione per produrre quello che poi veniamo a utilizzare nei nostri alimenti nei nostri pasti Francesco quindi a fra poco con l'approfondimento di quest'oggi da Dardago grazie grazie Valentina e con questa bella immagine del campanile andiamo adesso in pubblicità e poi torneremo per iniziare a parlare di zafferano ma continuare anche con la nostra rassegna stampa abbiamo da sfogliare ancora le pagine dei quotidiani nazionali ma ancora anche all'interno di quelli locali per le notizie che arrivano anche dagli altri sporti finora ci siamo a occupare soltanto di calcio ma c'è anche tanto altro da raccontare tra quello che troviamo oggi sulle pagine dei giornali le notizie che arrivano dal web dall'Italia e dal mondo con Angela Caino a tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccoci qui tornati pronti a ripartire con la rassegna stampa ma anche con l'approfondimento come detto oggi parleremo di zafferano con l'esterna collegamento in esterna con Valentina Biarzi ma anche in studio con un ospite a cui diamo il benvenuto insieme ad Angela Caino buongiorno buongiorno Francesco e buongiorno anche al nostro ospite a Pietro Ianni che è il presidente della cooperativa Charles de Moulin che è una delle realtà che organizza per questa domenica una festa la festa fior di zafferano per raccontare un po' quello che fa questa cooperativa come lavora quali sono i suoi obiettivi tra poco andremo anche noi ad anticipare a raccontare questa storia anche con l'aiuto di Valentina Biarzi in collegamento con noi in esterna proprio da Dardago prima però come sempre la parentesi dedicata al meteo oggi particolarmente importante perché venerdì c'è il fine settimana all'orizzonte quindi ci colleghiamo subito con l'Osmer Arpa per le previsioni di oggi buongiorno chi c'è al telefono con noi oggi? sono Livio buongiorno a tutti Livio Stefanotto già me l'aveva detto ma non mi ricordavo bene quindi onde fare figuracce ti ho chiesto chi sei Livio a te la parola subito raccontaci tutto direi giornata divisa in due la nostra regione divisa in due oggi il tempo è bello e rimarrà bello tutta la giornata in montagna dove rimarrà permanentemente sereno o al più poco nuvoloso anche quando sarà piuttosto secca invece tempo umido su pianura e costa con foschie con nubi basse che sono formate quando le nebbie della notte si sono alzate e quindi il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso con poche schiarite sulla bassa pianura e sulla costa temperature massime attorno ai 19-20 gradi direi oggi su pianura costa e anche nei fondovalle alpini e prealpini quindi direi prevalentemente tempo umido anche domani non sarà molto diverso da oggi ancora tempo stabile con tempo più soleggiato in montagna dove il cielo sarà appunto sereno poco nuvoloso specialmente in quota mentre su pianura e costa prevalentemente nubi basse e foschie quindi poco sole e molta nuvolosità il tempo cambia invece domenica questo sì c'è un veloce fronte atlantico che scavalca le Alpi nel corso della giornata quindi prevalentemente cielo coperto domenica già al mattino già al primo mattino qualche pioggia sparsa sulla nostra regione poi nel corso della mattinata piogge più abbondanti e localmente anche intense sulla fascia orientale dove potrebbe esserci anche qualche temporale sulla costa soffierà verso Trieste un po' di vento di scirocco comunque debole o il più moderato mentre vento da nord sulla costa nel corso del pomeriggio di domenica probabilmente entrerà vento da nord con aria fredda che scavalca le Alpi quindi la quota neve scenderà fino a mille mille e duecento metri circa sulla fascia alpina un po' più in su sulla fascia prealpina ed entrerà vento di Bora in serata che spazierà poi via le nuvole Bora che potrebbe anche soffiare con raffiche superiori a 100 km all'ora nel corso della notte su lunedì la Bora appunto poi spazierà via il fronte che andrà appunto a formare una depressione che scenderà poi sul sud Italia da noi affluiranno correnti da nord quindi da lunedì per qualche giorno di nuovo rimonta antice cronica con tempo più bello soleggiato soprattutto più secco perché avremo una prevalenza stilenti orientali Livio non ci hai dato buone notizie per domenica ma insomma grazie lo stesso dai grazie mille grazie Livio ci risentiamo nei prossimi giorni tutti buon fine settimana comunque Pietro purtroppo le previsioni non sono molto buone per domenica però insomma si farà lo stesso questa festa vediamo un po' come vanno le cose so che i miei colleghi a Dardago le oreggici si troveranno per mettere in azione un piano B che non so sinceramente in cosa consista questo piano B diceva prima che c'è bisogno di un po' di pioggia per le coltivazioni dello zafferano è un mese tutto il mese di ottobre non ha piovuto la fioritura dello zafferano quest'anno si sta svolgendo in modo piuttosto anomalo per cui abbiamo dei picchi di raccolta seguiti poi da delle giornate in cui non raccoliamo tanta roba noi diamo la colpa un po' anche alla situazione meteorologica soprattutto mancanza di pioggia e mancanza di sbalzo termico fra il giorno e la notte perché lo zafferano ha bisogno dello sbalzo termico per favorire la fioritura poi dopo vedremo anche con la nostra Valentina a bearzi questi bellissimi fiori vedo che stiamo perfezionando il collegamento esterno prima di passare la linea allora a Valentina io però le chiederei qualcosa sulla vostra storia una storia giovane una storia recente la vostra cooperativa la cooperativa Chal de Moulin da pochi anni si occupa della produzione di zafferano quando inizia questa storia diciamo che la coltivazione dello zafferano nella pedemontana prodenonese non è che abbia una gran storia comincia nel 2012 a opera di alcuni volontari che hanno cominciato a coltivare lo zafferano si è visto che questa cultura veniva bene nella nostra zona vuoi per il clima vuoi per la giacitura l'esposizione il soleggiamento il tipo di terreno morenico ed altre circostanze favorevoli abbiamo avuto appunto questo un raccolto di qualità raccolto di qualità che viene anche comprovato dalle diverse analisi chimiche che sia noi che i nostri colleghi hanno fatto hanno fatto noi abbiamo cominciato nel 2015 eravamo siamo anche sette amici che facevamo parte e facciamo parte del comitato del Royal e abbiamo pensato bene di cominciare anche noi a fare questa coltivazione abbiamo messo a dimora 5.000 bulbi perché e poi dopo contemporaneamente c'è nata l'idea di organizzare questa festa dello zafferano non tanto perché noi avevamo messo i 5.000 bulbi ma anche per valorizzare il lavoro che avevano fatto questi nostri compaesani quindi il 20 di ottobre abbiamo organizzato la festa è riuscita benissimo ecco Dardago sono venuti circa dalle 8 o le 10.000 persone per il primo anno e quindi siamo rimasti colpiti favorevolmente per cui abbiamo detto perché non continuiamo con la coltivazione dello zafferano in maniera tale di creare a Dardago un po' un centro di conoscenza di questa coltivazione che era sconosciuta era sconosciuta si non è molto diffusa nella nostra regione anche se negli ultimi anni insomma qualcosa si sta si sta muovendo tra poco proseguiremo nel racconto di questa bella storia adesso però andiamo da Valentina Bearzi e andiamo a vedere proprio questi campi di zafferano Valentina a voi al tuo ospite sì siamo a Dardago vicino a Budoia e siamo proprio nei campi della cooperativa agricola Cialde Moulin e sono con Ezio Zambon questa è una mattina prolifica vediamo già che ci sono lavoratrici impegnate a raccogliere i fiori dello zafferano buongiorno a tutti questa è una località Cialde Moulin è il toponimo di questa zona e la cooperativa ha preso proprio il nome da questo toponimo il toponimo è caratterizzato dalla casa la gente abbiamo purtroppo qualche problema nel collegamento vediamo se riusciamo a ritornare da Valentina Bearzi e anche a mostrarvi queste belle immagini delle raccoglitrici dei bulbi di zafferano allora mentre ripristiniamo il collegamento io andrei a vedere questa mappa che abbiamo trovato su internet sul sito zafferanoitaliano.it e che ci mostra le aree in cui si coltiva appunto lo zafferano nel mondo vediamo che da padrone la fa ovviamente la Cina poi abbiamo anche l'India pardon vediamo anche l'Iran c'è anche l'Italia ci sono anche alcuni paesi del Nord Africa la Spagna il sud della Spagna in particolare però anche il nostro paese è colorato con un rosso intenso quindi si produce molto zafferano anche da noi ecco allora diciamo che nel mondo si producono 250 tonnellate tonnellate di zafferano considerando gli stimmi vuol dire che ne mettiamo insieme parecchio per arrivare ai 280 chi fa da padrone è l'Iran con 185 tonnellate circa poi viene l'India viene il Pakistan viene gli altri paesi e il Marocco la Spagna con circa 30 quintali l'Italia è il fanalino di coda l'Italia ne produce dicono 5 quintali in realtà qualcuno dice che se ne producono anche molto meno qual è la differenza fra lo zafferano italiano e lo zafferano che viene dall'Iran lo zafferano italiano è prodotto e venduto esclusivamente in stimmi per cui c'è la garanzia che il prodotto è veramente zafferano non in polvere ecco non in polvere viene venduto il bastoncino lo zafferano che proviene invece dall'Iran è venduto esclusivamente in polvere per cui non sappiamo che cosa c'è veramente all'interno di quella bustina non sappiamo se c'è zafferano o se c'è curcuma o altre sostanze per cui il consiglio che noi diamo non è un consiglio tanto perché noi dobbiamo spingere la nostra produzione ma il consiglio che noi diamo è quello di scegliere lo zafferano in stimmi e di scegliere lo zafferano italiano perché abbiamo la sicurezza della tracciabilità la sicurezza di dove viene fatto il prodotto e soprattutto la sicurezza che quando compriamo compriamo zafferano e non altre sostanze è chiaro che la massaia quando arriva nel banco del supermercato e vede il nostro zafferano a 25 euro al grammo o 22 o 30 e vede invece lo zafferano in polvere dell'Iran a 7 grammi è invogliata ovviamente a comprare quello però se proviamo a fare un po' di differenza quando andiamo a fare il riso fra un zafferano e l'altro la differenza è notevole e si nota e si nota e siamo pronti adesso per ritornare da Valentina Bearzi Valentina a voi la linea sì Angela eccoci speriamo che il collegamento adesso funzioni abbiamo già un fiore di zafferano in mano da potervi mostrare oggi la giornata non ci aiuta tantissimo perché ci diceva il signorezzo lo scenario normalmente col sole è molto migliore c'è un po' di nebbiolina però le ragazze già a quest'ora sono al lavoro perché bisogna raccogliere essicare e terminare questa produzione nel giro di una giornata e in un periodo molto breve se non mi sbaglio sì la raccolta deve iniziare al mattino prima del sostanzialmente del solcere del sole in maniera evidente in quanto praticamente il fiore va raccolto che sia ancora chiuso questo favorisce la conservazione delle proprietà degli stimmi dello zafferano che sono questi tre stimmi arancioni e inizia anche così la lavorazione con la raccolta la separazione degli stimmi che poi trovano praticamente come successiva fase un'attività di essiccazione che deve essere fatta con criteri precisi al fine di sviluppare le proprietà dello zafferano in maniera adeguata e sviluppare quello che è l'aspetto degli aromi e del potere amaricante dello zafferano stesso quali sono le proprietà di questo fiore di questa spezza che poi deriva dai pistilli le proprietà sono innanzitutto l'utilizzo di carattere gastronomico in alcune regioni d'Italia è un prodotto che caratterizza la cucina di quella regione mi riferisco in particolare alla Lombardia dove praticamente il risotto dello zafferano è il piatto tipico nelle nostre zone veniva usato una volta ma in maniera molto limitata ci sono anche degli studi per quanto riguarda le proprietà di carattere salutistico dello zafferano alcuni azzardano anche delle attività di ricerca relativamente alle proprietà medicamentose o medicinali praticamente dello zafferano indubbiamente i tre tristilli sono una concentrazione di sostanze che sono praticamente molto utili al nostro organismo per cui oltre all'aspetto gastronomico senz'altro ci sono degli aspetti da valorizzare relativamente a quelli che sono gli aspetti salutistici dello zafferano stesso ecco la curiosità è proprio aver pensato di incentivare questo tipo di coltivazione in queste zone dicevamo prima è un fiore una coltivazione che è tipica di altre zone del Mediterraneo è tipica dell'Asia e invece qua ha trovato ben star ha trovato una sua collocazione ottimale nell'ambito della pedemontana c'erano ancora molti anni fa degli casi limitati praticamente di coltivazione dello zafferano il presupposto di base sono le caratteristiche del terreno il terreno ha indubbiamente delle caratteristiche che sono congeniali proprio per la coltivazione di questo tipo di prodotto di questo tipo di pianta che è una bulbosa per cui richiede terreni che siano sciolti drenanti che non ci sia ristagno d'acqua ed abbiano delle componenti di carattere minerale che praticamente favoriscano lo sviluppo della pianta di zafferano noi abbiamo fatto una verifica abbiamo visto che questo terreno qua in termini di caratteristiche di fertilità per questo tipo di coltivazione era congeniale per cui abbiamo ritenuto praticamente di fare questo tipo di verifiche questo è l'aspetto diciamo di carattere tecnico agrario per quanto riguarda la coltivazione il presupposto di base però è nato da praticamente da un gruppo di amici che già erano impegnati in un'attività locale che è il comitato del Ruyal il comitato del Ruyal come presupposto di fondo ha praticamente la finalità di sviluppare quello che è praticamente la valorizzazione del nostro territorio sono stati fatti dei vari lavori di recupero di manufatti antichi che erano caratteristici di questa zona e da questo praticamente abbiamo si è riusciti a mettere in moto una serie di indotto di attrazione per quanto riguarda la recettività della zona infatti anche per questo domenica voi avete organizzato fior di zafferano abbiamo visto in centro in paese di fronte alla chiesa nella piazza principale molti fiori viola appesi ai lampioni e nelle varie zone nei vari angoli della piazza proprio per ricordare che domenica c'è questo importante evento e ne parleremo fra poco adesso continuiamo a seguire la raccolta Angela ti richiederemo la linea fra pochissimo sì grazie Valentina così magari cerchiamo di capire anche se bisogna avere qualche particolare attenzione qualche particolare accortezza quando si raccolgono questi fiori è proprio questo il periodo della raccolta da metà ottobre a metà novembre siamo nel periodo giusto una volta all'anno solo o come funziona? la raccolta viene una sola volta all'anno purtroppo o per fortuna non so il periodo di raccolta va dai metà ottobre generalmente fino a metà novembre quest'anno abbiamo avuto un leggero anticipo e probabilmente dovuto alle maggior ore luci che abbiamo avuto con il periodo estivo il caldo eccetera eccetera quindi abbiamo avuto un'anticipazione però come dicevo prima abbiamo una fioritura anomala il che ci fa pensare almeno parlando anche con gli altri produttori in zona eccetera poi sentendo anche qualche esperto in zafferano eccetera probabilmente andremo avanti per quasi tutto il mese di novembre proprio in una situazione di calma di mai mai cioè non avremo non avremo tante giornate con picchi e questo e questo può essere anche una bella cosa perché non abbiamo bisogno di tante persone nello stesso giorno eccetera però ci trascina per un lungo per un lungo periodo e ovviamente c'è una cosa da dire che noi conosciamo lo zafferano da poco non abbiamo una storia non abbiamo un know-how per cui stiamo valutando adesso giorno per giorno anno per anno l'importante è segnarsi sempre ogni giorno quello che avviene temperatura umidità sbalzi termici in maniera tale da costruire un archivio di dati che riteniamo molto importante in questo vostro lavoro avete anche il supporto tecnico dell'ERSA diciamo che con l'ERSA noi abbiamo un rapporto ma più che avere un rapporto tecnico abbiamo un rapporto di carattere promozionale del prodotto perché noi abbiamo bisogno di avere anche qua un aiuto per la vendita dello zafferano perché perché lo zafferano in regione Friuli Venezia Giulia non è non è non entra nella cucina normalmente io ad esempio prima di coltivare lo zafferano avrò mangiato una volta forse il riso e avrò anche detto non mi piace forse per dire che non fa parte della nostra cultura come non fa parte neanche della cultura salutistica per cui noi dobbiamo costruire tutta una base tutta una conoscenza e cos'è che facciamo per questo noi facciamo delle serate a tema nei vari ristoranti dove parliamo di zafferano e facciamo i piatti a base di zafferano e adesso ritorniamo allora da Valentina Bearsi dalle raccoglitrici di zafferano perché vedo una bella immagine del nostro Fabio Di Bernardo un bel cestino con tanti fiori a voi la linea si stanno già raccogliendo tanti fiori e lo vediamo ce lo stanno porgendo proprio per cercare di capire come dicevi tu Angela come funziona questa raccolta la raccolta deve essere il fiore deve essere colto dalla pianta in maniera molto delicata separandolo a una certa altezza per non rovinare praticamente il bulbo quindi si passa praticamente alla fase di sfioratura la sfioratura detta anche tecnicamente mondatura del fiore consiste nella separazione di questi tre pistilli relativamente alla sola parte arancione in quanto le proprietà dello zafferano sono praticamente concentrate nella parte matura cioè dell'arancione del pistillo per cui si ad esempio viene fatta anche questo piccolo intervento di pulizia praticamente della parte non della parte gialla e non arancione del fiore in questo modo si si raccolgono proprio le proprietà concentrate e migliori praticamente dei pistilli di zafferano questa operazione viene fatta già dalle ragazze che raccolgono la mattina presto oppure viene fatta in una fase successiva precedente all'essicazione vera e propria no la giornata sostanzialmente si sviluppa in questo modo verso il mattino alle 7 praticamente ci si ritrova sul campo sul campo le ragazze fanno la raccolta che può durare circa un paio d'ore subito inizia dopo la raccolta dei primi fiori inizia praticamente l'attività di mondatura ossia di separazione per cui è un'attività che deve essere svolta in tempi molto stretti a metà mattina sostanzialmente i fiori raccolti nella prima parte della mattina per cui dalle 7 e mezza fino alle 8 e mezza 9 verso le 11 sono già stati praticamente mondati e verso mezzogiorno l'una e mezza tutta l'attività anche successiva di essiccazione è stata praticamente completata per cui dal campo il fiore alla mattina alle 7 e mezza poi nella prima parte del pomeriggio è già completato il processo e è pronto per essere praticamente avere una fase di una prima maturazione che vuol dire restare praticamente fermo praticamente prima di procedere alla successiva fase di confezionamento che di solito facciamo dopo un mese dall'attività in cui abbiamo provveduto alla mondatura e essiccazione un mese dopo praticamente dopo la raccolta vera e propria io ne ho già due in mano Angela e qui vediamo che cosa ci hanno preparato le persone della cooperativa Cialdemuline per spiegarci anche quello che appunto succederà domenica poi ci sposteremo anche in piazza la coltivazione è molto delicata l'impianto della pianta in che momento avviene e poi appunto quali sono le fasi più pericolose diciamo per preservare il fiore nella sua integrità è un fiore e di conseguenza va gestito in tutta quante la fase in maniera molto praticamente attenta e delicata e dal punto di vista della coltivazione della pianta la pianta è una pianta è una bulbosa ed è una pianta rustica sostanzialmente abituata a essere coltivata su terreni un attimo anche difficili per cui con queste caratteristiche del terreno si trova perfettamente a suo agio la fase diciamo dello zafferano lo zafferano ma la pioggia e il sole da questo punto di vista cambiano qualcosa per esempio questa estate che abbiamo avuto un tanto caldo e poi tanta pioggia ma ha relativamente influito influisce più che altro sulle tempistiche dello sviluppo della pianta non lo condiziona o non lo compromette più di tanto assolutamente perché come dicevo è una pianta che ha una forza consistente rustica e di conseguenza riesce a resistere anche quelle che sono situazioni abbastanza estreme il tema è l'umidità ha una resistenza alle basse temperature tanto per dirvi anche temperature di meno 10 non incidono praticamente sull'attività della pianta dal punto di vista del ciclo sostanzialmente di vegetazione succede questo le piante i bulbi vengono messi a dimora nella fase praticamente dell'iniziale dell'estate viene preparato il terreno è rapida quindi come cosa sì sì nella fase periodo di metà fine agosto è il periodo migliore per mettere a dimora i bulbi questi bulbi hanno praticamente un ciclo di circa un mese di vegetazione dopodiché esce la parte verde come vediamo in questo caso da questa fase da questa fase sono in una quindicina di giorni si presenta il fiore che va raccolto appunto chiuso esattamente va raccolto chiuso è un'attenzione che permette di preservare le qualità e le caratteristiche dello zafferano quanti campi avete in questa zona questo è il nostro primo campo che noi chiamiamo campo A ed è il campo da cui siamo partiti per verificare la fattibilità della cosa poi abbiamo circa 6.000 7.000 bulbi dopodiché visto la buona riuscita praticamente della coltivazione e le caratteristiche dello zafferano che erano assolutamente di classe A rispetto ai parametri che ci sono a livello internazionale si collocavamo nella fascia alta della qualità di prodotto come zafferano dopo questo tipo di prima verifica abbiamo deciso di sviluppare praticamente con il campo B nel mentre questo tipo di iniziativa ha trovato notevole interesse qui nella zona tanto che praticamente abbiamo avuto la richiesta di circa 100 persone di far parte di questa iniziativa cooperativa oltre che per l'attività diciamo così agricola per lo zafferano che è una spezia e in quanto spezia praticamente vedo che suscita un certo interesse ma piaceva l'aspetto anche di provare una coltivazione che potesse avere una funzione dedicata al territorio comunque con 100 richieste di adesione a questa iniziativa è stato necessario costituirsi come cooperativa con tutta una logica praticamente statutaria che fosse praticamente di condivisione una logica di finalità di attenzione al territorio di coltivazione biologica praticamente dello zafferano e non ci sono naturalmente fini di utili da parte della cooperativa ma quello che è il nostro obiettivo è di socializzazione di promozione del territorio di praticamente di mettere in moto delle attività che potessero essere coalizzanti e valorizzanti le caratteristiche della nostra terra bene quindi siamo arrivati Angela alla terza manifestazione di Fior di Zafferano di cui andremo a parlare nella seconda parte della nostra trasmissione adesso ti restituisco la linea ringrazio il signorezzo Zambon buon lavoro grazie e noi ovviamente ci vediamo fra poco bene grazie a Valentina e anche a Fabio Di Bernardo poi vi sposterete appunto in un'altra location andrete più verso il paese in centro a Dardago prima di fermarci per un attimo di pubblicità vogliamo mostrarvi anche proprio il bulbo dello zafferano che in campo non abbiamo visto perché era sottoterra ma lo vediamo appunto nelle mani del nostro ospite quindi questi bulbi devono essere messi a dimora ogni anno io pensavo che essendo un bulbo rifiorisse non è così allora ci sono due tipi di coltivazioni c'è la coltivazione annuale che viene fatta solo in Abruzzo che consiste nel piantare i bulbi il mese di i primi di agosto loro li piantano con un investimento pari a circa 50-60 bulbi per metro quadro quindi significa 500.000 600.000 bulbi per ettaro dopodiché viene la produzione lo lasciano nel campo il mese di giugno quando le foglie si sono seccate diciamo e quando la pianta il bulbo entra in fase di riposo viene lo spiantamento cioè la raccolta di bulbi i bulbi vengono raccolti puliti e vengono messi a riparo fino al mese di agosto successivo questa è la raccolta annuale che ha dei vantaggi e degli svantaggi il vantaggio principale è quello che non crescono le malerbe perché ruotando ogni anno non ci sono malerbe gli svantaggi sono quelli del maggior costo di manodopera perché lei pensi piantare e spiantare ogni anno i costi sono notevoli invece in tutto il resto dell'Italia compreso la nostra tipo di coltivazione lo facciamo poliennale cioè noi abbiamo messo a dimora il primo campo nel 2015 lo lasciamo per 4 anni quindi andremmo a toglierlo o nel 2018 o nel 2019 perché la cultura poliennale per il discorso di risparmio di manodopera quindi lo lasciamo lì il bulbo principale che è questo una volta che ha fiorito comincia genera altri bulbilli attorno le signore le donne sanno con i tulipani avviene più o meno la stessa cosa allora da questo bulbo ne nascono altri 4-5 dipende poi dalla quantità di foglie per avere la grossezza la grossezza di bulbi successivi lo mettendo ora il sesto di impianto che noi adottiamo qual è 25 cm tra fila e fila e 10 o 4 sui 10 cm di distanza da bulbo a bulbo allora noi abbiamo messo circa abbiamo fatto tre prove lasciamo stare quella del 2015 perché lì abbiamo messo un po' l'anno scorso abbiamo messo in un campo abbiamo fatto 47 bulbi per metro quadro in un altro ne abbiamo fatti 25 per vedere in un momentino anche il discorso della produzione eccetera teniamo presente una cosa che per fare un grammo di zafferano essiccato quanti bulbi ci vogliono quanti fiori ci vogliono dai 150 ai 200 fiori dipende dipende dalla grossezza del fiore e un'altra quanti fiori raccolgono in un'ora allora qua dipende dalle schiene e dall'età dall'abilità e dall'età delle raccoglitrici ma un grammo di zafferano quanto costa? un grammo di zafferano costa attorno ai 25 euro perfetto allora su questo numero ci fermiamo per un po' di pubblicità eccoci di nuovo in diretta con il nostro approfondimento di oggi che ci sta portando a scoprire una realtà un po' particolare della nostra regione una realtà produttiva particolare quella dello zafferano siamo in collegamento con il paese di Dardago Dardago dove è stata avviata una produzione particolarmente importante di zafferano domenica ci sarà una festa ne parliamo assieme al presidente della cooperativa Cialde Moulin che organizza questa festa Pietro Ianna con noi c'è anche Francesco Pezzella in studio Francesco tra poco ritorniamo sullo sport c'hai ancora qualcosa da raccontarci? sì ok allora tra poco torniamo da Francesco prima però andiamo da Valentina Bearzi prima l'abbiamo vista in mezzo ai campi di zafferano adesso si è spostata in piazza in centro Valentina a voi sì Angela siamo in piazza a Dardago il luogo del nostro primo collegamento durante la rassegna stampa intanto si è un po' popolata e sono con Valentino Zambone che è il presidente del comitato del Royal de Saint-Omè giusto? ho detto giusto? del Royal de Saint-Omè perfetto è un po' complesso questo nome come mai? da cosa deriva? perché Saint-Omè è la vallata qui a nord di Dardago e siccome c'è una canaletta storica e tutto è iniziato quattro anni fa e siamo messi assieme un gruppo di amici per ricostruire una canaletta storica costruita nel 1669 dai conti fullini di Polcenigo che erano i signorotti locali che l'avevano costruita per trasportare l'acqua dalla vallata ai tre paesi e per alimentare anche delle ruote ad acqua con mulini con filande eccetera ecco questa canaletta era stata abbandonata nel corso degli anni e noi quattro anni fa ci siamo messi assieme e in collaborazione con l'amministrazione comunale che ha recuperato dei fondi fondi europei nel progetto liquenzia anche assieme a montagna leader abbiamo ricostruito le parti mancanti ripristinato eccetera e da lì vi è venuta la voglia di migliorare di ampliare ancora di più il vostro lavoro a migliorare e a promuovere il paese eccetera quindi dopo aver creato così organizzato delle feste del Ruyal che sono in realtà un modo per far conoscere la nostra montagna la nostra vallata il paese poi visto che ci sono che c'erano degli imprenditori locali che iniziavano con la produzione di zafferano abbiamo pensato di promuovere di utilizzare lo zafferano come promozione del paese del territorio eccetera e quindi tre anni fa abbiamo così iniziato con la prima edizione di Dardago fiore di zafferano e oggi siamo alla terza edizione infatti in ogni punto del paese Angela lo state vedendo c'è il simbolo di questa festa quindi il fiore di zafferano il paese già abbellito proprio per l'evento di domenica e vediamo alle nostre spalle anche la pubblicità che avete realizzato con una promozione molto interessante che è quella del megafrico allo zafferano da Guinness da Guinness il megafrico verrà cucinato preparato da un'associazione in realtà un'associazione della nostra famiglia di Bertiolo di Sterpo che sono dei nostri amici è un'associazione molto simile alla nostra e quindi loro sono entrati nel Guinness dei primati per aver cucinato il frico girato più grande del mondo con un diametro con una padelliera di due metri e mezzo eccetera eccetera ecco l'iniziativa è quella di personalizzarlo con lo zafferano locale e quanto sarà grande? si può dire? si sono due metri e mezzo quindi sono due quintali di frico per 5-600 persone e che verrà servito con una mega polenta abbiamo costruito una mega polentiera d'ardago quindi una specie di betoniera per fare la polenta che utilizza diciamo un paiolo della vecchia lateria e faremo tre quintali di polenta assieme al frico più altre cose pittina eccetera eccetera risotti allo zafferano ovviamente non possono mancare prima di entrare nel dettaglio di quello che succederà questa domenica una curiosità prima di salutare il presidente il nome del paese ci eravamo interrogati su come si pronunciasse d'ardago o d'ardago abbiamo scoperto che è d'ardago ma ci spiega anche da che cosa nasce d'ardago perché almeno si pensa questa è la versione più attendibile è il luogo di produzione dei dardi quindi in questa zona si costruivano le frecce nel tardio medioevo così prima per il patriarcato di Aquileia che era il nostro sotto il quale si trovava dardago e quindi dardo dardago è il luogo dei dardi questo è l'origine del paese bene Angela allora noi ci salutiamo per un momento e poi ritorneremo per un nuovo collegamento fra poco grazie grazie a Valentina dardago quindi io prima avevo sbagliato anche la pronuncia di budoia così diamo anche qualche altra indicazione perché forse in molti possiamo dirlo non sanno esattamente dove è dardago se diciamo budoia magari insomma riusciamo a collocare un pochino meglio anche questo paese che è piccolissimo Presidente dardago conta dai 700 agli 800 abitanti eravamo anche meno qualche anno fa eravamo scesi a 600 e cos'è che ha portato più gente a dardago diciamo che però tra le due guerre dardago contava 2000 abitanti per cui dopo c'è stato lo spopolamento dovuto all'immigrazione sia Venezia piuttosto che Milano Francia Germania il popolamento il ripopolamento lo ha portato una certa campagna che è stata fatta di presentazione del comune di budoia non solo di dardago un piano regolatore fatto ad hoc eccetera poi da ricordare che noi abbiamo una scuola a tempo pieno che è cominciata nel 1969 era la prima in provincia di Pordenone la prima scuola a tempo pieno la prima scuola elementare a tempo pieno 1968-69 quindi c'è una storia e quindi una scuola che si è perfezionata nel tempo poi diciamo che dardago dista da Pordenone 15 minuti di macchina ha meno problemi di inquinamento di Pordenone non ci sono problemi di inquinamento uno vive però il problema qual è? che sembra che siamo meno persone adesso che quando eravamo o erano in 2000 perché ognuno fa vita per conto suo non c'è non c'è una comunità ecco perché l'obiettivo uno degli obiettivi della vostra cooperativa della cooperativa Acial de Moulin che fa parte di Conf Cooperative Pordenone ricordiamolo è anche quello di contribuire alla socializzazione tra le persone questo è uno dei delle delle tre mission socializzazione promozione del territorio ovviamente integrazione al reddito la socializzazione è importante proprio perché c'è bisogno di far incontrare le persone di farle stare assieme diciamo che abbiamo scelto anche lo zafferano come cultura proprio perché richiede nella sua lavorazione tanta mano d'opera o solo mano d'opera per cui mette insieme riesce a mettere insieme diverse persone sia nella fase della raccolta che nella fase della mondatura quindi si va verso una prima socializzazione ma la socializzazione più grossa e più importante è quella degli avvenimenti che poi creiamo vedi la festa di domenica e altre manifestazioni che vengono fatte che coinvolgono un po' tutto il territorio e a proposito delle collaborazioni con le altre realtà che producono zafferano in regione oppure anche altre realtà che producono magari altri prodotti c'è una rete si parla molto spesso in questi in questi tempi della creazione di rete di una filiera di qualità com'è la situazione in poche parole così poi ritorniamo da Valentina allora se devo essere sincero se devo essere sincero fra i produttori di zafferano non c'è una grossa cooperazione una rete il mio obiettivo è quello anche di qualcuno con il quale operiamo è quello di arrivare alla costituzione di un consorzio tra i produttori di zafferano perché per tutelare il prodotto perché il prodotto venga perché ci sia un disciplinare di produzione perché lo zafferano prodotto nella pedemontana si corrisponda a determinati criteri perché ognuno non vada per la propria strada cercando delle vie d'uscita che non sempre magari sono sono consome però purtroppo io non so dirlo bene in friulano lei lo sa dire meglio di me quel facciamo da soli no? quel fasin di bessoi che può avere una luce positiva o negativa a seconda dei casi e quindi è quello che un po' invece siamo riusciti a creare delle reti più che reti d'impresa delle collaborazioni con altri produttori cito ad esempio con la cooperativa di Castions che aderisce alla cooperativa cooperative con le quali abbiamo stiamo mettendo in piedi una collaborazione per la produzione di biscotti allo zafferano abbiamo una collaborazione con l'unica azienda agricola che produce riso il Friuli Venezia Giulia loro ci mettono il riso noi mettiamo la bustina di zafferano l'avete vista anche nei sì forse l'avevamo vista prima è una prima collaborazione dopo abbiamo delle collaborazioni con i produttori di latte per fare dei prodotti qualche derivato del latte con lo zafferano e quello che vediamo invece sul vostro sito Dardago Fior di Zafferano è pane allo zafferano quello è il pane che lo abbiamo fatto in occasione dell'antica fiera di Godega noi abbiamo messo a disposizione lo zafferano e un produttore di farina la pasta la farina e per tutta la giornata degli esperti panificatori hanno sfornato il pane allo zafferano che è quello che vediamo dobbiamo dire che il reparto dove eravamo era pervaso da un profumo e pieno di gente che veniva ad assaggiare il pane allo zafferano buonissimo ma l'inconveniente che costa il pane costa il pane allo zafferano quanto al chilo? non so però considerando quello che costa lo zafferano però in determinate occasioni i panini piccoli allo zafferano sarebbero veramente una chicca possono essere una curiosità qualcosa di diverso e curioso da mangiare o da assaggiare vediamo se riusciamo a ritornare da Valentina Beharzi immagino per un ultimo saluto da Dardago visto che ormai siamo addirittura d'arrivo Valentina a voi la linea si Angela ci siamo spostati in un altro luogo del paese vicinissimo alla piazza c'è la scuola materna stanno arrivando i bambini per iniziare la giornata e vicino a noi c'è anche il teatro volevamo spiegare che cosa succederà domenica perché oltre al pranzo tutti insieme al mercatino e a questi momenti conviviali c'è anche un convegno giusto? esatto il convegno è organizzato nell'ambito della giornata della terza festa dello zafferano qui di Dardago e della parte diciamo scientifica un attimino della giornata stessa il convegno consiste in una parte iniziale di presentazione di introduzione al tema dello zafferano infatti il titolo del convegno è appunto viaggio nel mondo dello zafferano e poi ci saranno degli interventi tecnici relativamente alla coltivazione dello zafferano che sarà curato da una dottoressa di neo Laura che ha sviluppato una tesi proprio sulla cultura dello zafferano ci sarà successivamente un intervento di un medico relativamente alle proprietà salutistiche dello zafferano e quindi verrà fatta praticamente un riferimento anche di carattere normativo relativamente a quello che è il contesto della coltivazione dello zafferano questa è la prima parte della giornata partenza alle 9 e 15 e poi dopo il pranzo è tutta la parte diciamo conviviale più ludica dedicata a tutti gli altri esattamente e parallelamente ci sarà il mercatino dei prodotti in piazza che adesso visto le condizioni in meteo stiamo pensando di spostarlo a domenica 29 quindi in realtà la festa verrà strutturata su due domeniche domenica questa faremo il pranzo e la conferenza tecnica in teatro e il mercatino verrà spostato domenica 29 visto che domenica le condizioni sono abbastanza tristi e ripeteremo comunque il pranzo con il frico e i risotti e quant'altro grazie allora Valentino Ezio Zambon noi ci spostiamo e vi andiamo a mostrare come davanti al teatro ci sia stranamente abbiamo nominata prima proprio una polentiera Angela una grande polentiera al cui fianco troviamo lo chef Giovanni Fabbro che questa domenica si esibirà per tutti gli amanti dello zafferano e non solo sì noi siamo dell'associazione cuochi di Pordenone iscritti alla federazione italiana cuochi è per la terza edizione che facciamo questa questa grande manifestazione dello zafferano qui a Dardago ed è un piacere perché noi durante la nostra vita lavorativa abbiamo lavorato molto con zafferano zafferano in doperando questo zafferano questo di Dardago della pedemontana qua di Dardago abbiamo trovato un'eccellenza veramente un'eccellenza perché con meno zafferano si ha più profumi più odori e più sapori sapori e colori sapori e colori e grazie anche a questa purtroppo povera terra che ci dà tante belle cose e ci ha dato anche molti cuochi in giro per il mondo la pedemontana si sa che è una delle migliori delle migliori parti dove ci sono i gradi cuochi noi appunto faremo sempre il risotto allo zafferano con un ragù tagliato sempre a coltello con l'agnello sempre di produzione qua del territorio e poi ne facciamo un'altra che viene chiamato farfalle sono della carne di bufala carne di bufala tagliata con la fettatrice e poi viene saltata in padella e messa insieme con lo zafferano ci sarà anche appunto questo mega fricco questo mega fricco che sono state fatte delle prove per poter farlo e anche lo zafferano per mettere dentro lo zafferano che ci sarà veramente ci siete riusciti siamo riusciti a fare un gran bel lavoro e sicuramente sarà una sempre una grande festa e un grande incontro con la gente per far conoscere questo grande territorio con attenzione comunque alla qualità del prodotto e alla qualità di quello che si mangia noi in Friuli abbiamo dei prodotti eccezionali veramente eccezionali dobbiamo ricordarcelo e farcelo e ricordarcelo perché abbiamo dalla montagna dai formaggi allo zafferano attualmente al pesce alle trotte tante belle cose che veramente noi non sappiamo valorizzare e pubblicizzarla come si deve noi lavoriamo e andiamo avanti è sempre così noi lavoriamo e gli altri promuovono grazie Giovanni Fabro buon lavoro per questa domenica e con questo ultimo collegamento Angela noi ti salutiamo da Dardago e ricordiamo l'appuntamento per questa domenica e per la successiva probabilmente anche con il pranzo dedicato proprio alla valorizzazione dello zafferano grazie allora Valentina Bearzia Fabio Di Bernardo per l'esterna di oggi quindi era uno slittamento anche la prossima domenica il piano B al quale stavano pensando gli altri organizzatori di Fiore di Zafferano siamo addirittura d'arrivo Francesco avevi qualcosa in sospeso per quanto riguarda lo sport avevo detto che lo zafferano costa 25 euro al grammo sui 25 euro al grammo siamo andati a cercare le quotazioni dell'oro e pensate che costa sicuramente di più dell'oro 14 carati e del 18 carati che sono a 17 a 22 euro circa il grammo e dell'oro a 24 carati che è quello più prezioso 31 euro quello costa di più lo zafferano si piazza a me in effetti lo zafferano viene definito l'oro rosso l'oro rosso per le sue caratteristiche e essendo un prodotto che costa è un prodotto che è facilmente soggetto a sofisticazioni per cui ritorno al discorso di prima invito caldamente il giorno che la padrona di casa decide di fare lo zafferano un piatto con lo zafferano che usi lo zafferano in stimmi per avere la sicurezza perché altrimenti può prendere della curcuma dei filamenti di mais e non se ne accorge è vero è vero Francesco a te si velocemente sulle prime pagine dei quotidiani nazionali prima di chiudere la gazzetta che dedica molto spazio alla parentesi di Europa League di ieri con Montella pianto greco il Milan ha pareggiato poco gioco nessun gol e Montella fischiato sotto la testata invece gli altri due match delle italiane con la Lazio che ha rimontato Balotelli e ha fatto festa si parla anche di un rinnovo di contratto a vita per Ciro Immobile e l'Atalanta che ha battuto invece l'Apollon di Limassol 3 a 1 ipotecando il passaggio al turno successivo manca davvero poco poi si va verso la sfida tra Napoli e Inter una sfida anche tra portieri con il preparatore Alessandro Nista che è stato anche a Udine ha lavorato anche all'Udinese nel periodo stramaccioni passato poi al Napoli parla di Reina e di Andanovic con i quali ha lavorato ha lavorato con entrambi questa è la gazzetta dello sport andiamo sul tutto sport dove c'è una foto di Allegri il titolo è Juve sì Juve no i tifosi bianconeri si spaccano ottimisti contro pessimisti problemi emersi nelle ultime settimane hanno diviso il popolo giuventino in due fazioni vediamo perché a novembre la squadra di Allegri può decollare lasciamo il tutto sport per andare a chiudere con il corriere dello sport dove si torna sul discorso Europa con Lazio flop Lazio top scusa Milan flop l'abbraccio di Lucas Leita e Milinkovic Savic per il 3 a 1 al Nizza di Balotelli e invece Montella che qui vedete viene definito flop il suo Milan perché è andato non è andato oltre lo 0 a 0 con l'AEK di Atene dunque c'è una una minaccia di Borca Valero al Napoli Napoli ti batto in attesa del match club della giornata del nono turno di campionato che sarà proprio Napoli Inter si giocherà domani alle 20.45 però dice per lo scudetto è presto queste le prime pagine dei giornali Angela da parte mia è tutto e siamo in chiusura Francesco perché siamo ormai vicini alle nove anzi le abbiamo superate quindi io ringrazio il nostro ospite Pietro Ianna per essere stato con noi oggi e buon lavoro e buona festa domenica e anche domenica prossima a questo punto due giornate di festa dedicate allo zafferano a Dardago di Budoglia giù detto bene grazie anche alla regia di Francesco Snidero e Emanuele Sergi a tutti voi che ci avete seguito anche oggi da parte nostra buona giornata e ancora buongiorno Friuli grazie a tutti